L'Academy è partita da Camogli, un grandissimo successo. Siamo molto contenti, sapevamo che c'era grande voglia di pallanuoto, grande voglia di cominciare questo sport fantastico. 70 e passa bambini oggi si sono presentati alla prima giornata di prova e quindi per noi questo è un grande segnale che siamo nella direzione giusta. L'obiettivo è costruire i futuri campioni della pallanuoto nel Tiguglio e anche nel Genovese? Sì, l'obiettivo è quello soprattutto di non perdere per strada nessuno. I campioni ci sono, ci sono stati, ci saranno ma è importante che chi comincia a giocare a pallanuoto possa poi continuare a giocare anche se non arriva per forza in nazionale o non ambisce a diventare una super stella. È uno sport fantastico e abbiamo tantissime squadre tutte nella stessa orbita, questo per fare in modo che tutti possano divertirsi.